Se hai necessità di chiudere un conto corrente, potrai farlo in qualsiasi momento. Nella maggior parte dei casi, la procedura è molto semplice e basta inviare alla tua banca una PEC o una lettera di chiusura conto corrente. Ogni banca, di solito, propone il suo modello. Chiudere un conto corrente si tratta di una procedura piuttosto semplice. Ti basterà seguire i pochi e semplici passi indicati qui di seguito. Operazioni in sospeso. Prima di richiedere la chiusura del tuo conto corrente, verifica la presenza di eventuali operazioni ancora in sospeso, bollette non ancora pagate, bonifici in corso oppure assegni da incassare. Oltre a questo, le eventuali domiciliazioni attive sul conto corrente che vuoi chiudere, detti anche RID, rapporto interbancario diretto, dovranno essere trasferite sul nuovo conto corrente eventualmente attivato, piuttosto che chiuse definitivamente, una volta saldati gli eventuali pregressi di cui si diceva. Carte, assegni e titoli. Nella fase di chiusura del conto corrente, dovrai riconsegnare alla banca tutte le carte di debito, come banco ma te simili, oltre alle eventuali carte di credito. Se sei titolare di un libretto degli assegni, dovrai restituire all'istituto di credito anche quello. Inoltre, se possiedi dei titoli come azioni, obbligazioni o quote di fondi, dovrai chiedere esplicitamente alla tua banca la chiusura del conto titoli. Queste posizioni dovranno essere associate al nuovo conto corrente, a meno che non dovessi decidere di svincolarti e vendere prima della chiusura del conto corrente. Costi da sostenere La banca non può applicare costi espliciti per la chiusura dei conti corrente, questo dal Decreto Bersani 2232006 sulla libera concorrenza. Tuttavia, ti potranno essere addebitati i costi legati alla chiusura del conto, quali il canone stabilito dal tuo contratto con la banca, l'imposta di bollo ed eventuali interessi e passivi maturati fino al momento della chiusura. Fai in ogni caso riferimento al tuo contratto per i dettagli economici. Tempi di chiusura Le banche sono tenute, ormai dal 2015, ad evadere le operazioni per la chiusura dei conti correnti entro 12 giorni dalla richiesta, pena pesanti sanzioni per gli istituti che non dovessero rispettare queste tempistiche. Ad ogni modo, i tempi tecnici medi si aggirano tra i 6 e i 10 giorni lavorativi.